Oggi Covid o non Covid si vota? È giusto, è perché il nostro diritto di cittadini italiani col Covid hanno aperto le discoteche. Penso che andare a mettere una crocetta sul foglio non credo che ci costi molto. Quali misure di sicurezza hanno adottato? Cosa ti hanno fatto fare? All'ingresso c'è il gel come sempre con tutti i negozi, sono due corsie per entrare e per uscire e il resto è una mascherina obbligatoria, siamo ormai addestrati, dopo 7-8 mesi che andiamo avanti con queste misure, penso che uno ci ha fatto pure l'abitudine. Oggi si vota, l'unica cosa che ci è rimasto da fare, perché non ci fanno più vuotà. Lei dentro ha indossato la mascherina, vero? Sempre, tutto preciso, lavata di mano, tutto. Sono operazioni che rallentano un po' il voto o no secondo voi? No, secondo me no, anche perché non è che c'è una grande affluenza pura, però magari più avanti non lo so. C'è qualche scrutatore che qui ha rinunciato per paura di corrida? Beh, sicuramente c'è stato un pochino più di movimento dovuto al fatto che chi ci si aspettava sarebbe venuto ad adempiere, magari per X motivazioni le detenzioni un pochino ci sono state, però nulla che non è stato risolto con pronte reperibilità da parte del personale addetto, insomma.